bce e fed sono alle spalle cosa fare ora in borsa ce lo dicono i protagonisti di house of trading si intanto la prima carta purtroppo è già è già scattata ma non non era questo il modo per farla partire nel senso che purtroppo avevo programmato un long sull'S&P500 e però doveva arrivare prima di una discesa anzi dopo una discesa pardon avevo dato un livello tra l'altro abbastanza alto perché se avesse fatto questa discesa avrebbe permesso di rifiattare e di ripartire per andare nettamente appunto a salire per cui purtroppo non non possiamo dare per buono il long che per carità in questo momento saremo persino in in gain per il fatto che come vedete se non c'è un ritracciamento e se non si inizia a scendere da questo grafico vedete che avevamo indicato con la freccia gialla arancione discesa e noi non siamo poi disponibili a rientrare immediatamente long e anzi c'è ancora del tempo per poter salire perché se ci prendiamo il tempo del secondo ciclo settimanale inverso siamo arrivati a nove barre su massimo 11 quindi abbiamo ancora teoricamente al massimo altri due giorni di salita bene perché la carta era era long ma era long con un discorso prima di discesa per poi fare una risalita effettivamente più forte per cui purtroppo non non è stato possibile oltretutto ricambiare di nuovo carta o migliorarlo perché facendo trading sono sono riuscito ad arrivare un po oltre le 16 per preparare il trade per cui questo trade in gain ma è saltato il tracciamento sul S&P 500 Jacopo e per per fare diciamo la classica entrata sul ritracciamento diciamo esatto per far partire oltretutto un ciclo inverso che poi si vincoli e ci permette di salire per un tempo definito minimo di 6 barre un tempo medio di 8 un tempo massimo di 11 ma se non mi fa il ritracciamento mi fa piacere essere in gain ma non sono entrato ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmpp paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading iscriviti al canale Grazie a tutti